Io vorrei portare anche a questo servizio che viene da Anzio e ci presentarà una parte di Roma. Quindi un attimo lei. Grazie Anzio, grazie all'associazione di ammiguità, io rappresento Anzio il primo dell'Evrica Scala perché faccio parte anche delle associazioni di Scala. Mi piace vedere la cosa, magari perché non ci fossero i confini per questo, per l'arte, perché i confini non sono mai bene da nessuna parte. Vida, ho proprio un profilo. Allora, invece, sono arrivati nella nostra parte, la nostra mia amica, a 300 sferrati, per Flora Mugombo. Volevo chiedere questa parte, giusto? E' anche una insensabile.